Adesso siamo in un mercato evoluto, un mercato molto cresciuto, importante, uno dei massimi mercati a livello europeo, quindi che venga così distrattato in modo, non dico inconsapevole, ma incompetente, mi dispiace molto. E di queste problematiche e delle novità che ci aspettano parleremo con un po' di ospiti che si alterneranno qui al tavolo con me e cominciamo con la parte legale, ho qui al fianco a me due avvocati, l'avvocato Stefano Sbordoni, presidente Lutis, esperto di gaming da tanto tempo e l'avvocato Daniel Agnello, anch'essa molto esperta delle problematiche che riguardano il settore del gioco. Affronteremo due tematiche che sembrano diverse, ma che vanno a concidere sulla problematicità che c'è sul territorio.